Analisi immediata delle urine. Prima o poi doveva succedere, no? Prendete e liberatevi. E chissà che non è una volta buona che ci liberiamo anche noi di voi. Cos'è? Avete perso la favella? Tanto siete puliti, no? Che problema c'è? E allora dai, che il laboratorio aspetta. Lo zaino. Grazie. Trovaglia, porca trovaglia! Ce lo sapevo. No, sta tranquillo. Cosa credi che mi stavo guardando porta a porta io ieri sera? Se questa pensava di fregarmi quello zaino. Guarda qua. Sono un professionista io. E ce l'hai anche per me? Adesso non esageriamo. Non voglio mica farmi restare per spazio di piscio. Però con 80 euro passa la paura. Ah, quindi ce l'hai? No! Ti ho detto, tu sganci i soldi. Poi il resto ci penso io. Va bene, dai. Senti, devo 30. Senti, devo 20. Mannaggia Manuel! Ma non mi esce proprio niente! Cazzo, Chico, ma ti pisci addosso tutto il giorno? E quando serve? E fale ste due gocce, no? Dai! Senti, se non vuoi farle per me, fale per la lina tua. Bravo, cazzo! Hai visto? Dai, ancora! Dai! Bravo! Ti voglio bene! Ti voglio bene!